Allora, Canelupo cecoslovacco, Jack Rattel, Baby Labrador, Pastore australiano, Canelupo Sarlos, ok. Allora, Li Juniors nelle pre-ring per cortesia. Allora, ci siamo qua con i Baby, quindi abbiamo un Canelupo cecoslovacco, un Jack Rattel, un Labrador, un Pastore australiano e un Canelupo Sarlos. Allora, quindi ricordo siamo nei Baby, soggetti 4-6 mesi, alle loro prime esperienze. Ripeto, vediamo adesso un Canelupo cecoslovacco. A seguire un Jack Russell, un Labrador. È un Pastore australiano. Allora, ci siamo. Abbiamo già il responso per il Best Best. Allora, ci siamo al terzo posto Canelupo cecoslovacco. Al secondo posto Jack Russell vince Labrador. Allora, ci siamo.